Qui alla storia della Pignatella abbiamo con noi Marco, Marco come? Poglio. Marco Poglio, che si ritiene destra queste notizie ingiuste? Eh sì, perché... Perché dici io qua... No, io ho messo i tavolati come autorizzato. Questi i tavolati, questo è il tavolato sotto inchiesta. No, no, questi qua ce ne stavano, sì, questi qua fanno parte del permesso che ho per mettere il tavolato. E questo è permesso di avere anche quel tavolato, che è un po' più grande di questi, però ha le stesse funzioni e caratteristiche. Quindi a oggi non si capisce perché quello è cattivo e questi qua sono buoni, perché sono in regola questi. Da tre anni non sono stati autorizzati. E oggi non si capisce perché quello là... Non ve l'hanno autorizzato. ...quattro mesi che i magistrati non riescono a darci una risposta. Hanno perso la bellezza di 40 giorni per notificarci la combattia dei sigili. Dal 4 di luglio, quando è arrivato venerdì... Quanto è venerdì? Sì, ok, va bene. Più di 40 giorni per la notifica del... Ok, sì. ...della combattia dei sigili. Non si capisce come mai ci vogliono tanto tempo per una combattia. E non si capisce ancora, dopo 40 giorni questi non rispondono al nostro ricorso. Non si sa perché. Vorrei, se ci sta qualcuno più che può investire su queste cose, perché è assurdo quello che sta succedendo qua. Ho capito, vabbè. Ma le notizie false che dicono quando riguarda il 14 luglio, che ci fu quel mare mostro e che la capitale di Porto sta a fare quelle persone. se non era anche per me che gli avevano messo il salvagento, con il canotto di salvataggio non avrebbero fatto nulla loro. Non capito. Ma poi quando è mare così mettete la bandiera russa? Ci sta sempre la bandiera russa. Ok. Ma in più ci sta il salvataggio, ci sta quello che può... è normale che noi possiamo fare, che poi il comune stesso ci dà la possibilità, perché in effetti per il comune noi non esistiamo, noi siamo qua, sì, però per loro non ci danno qualcosa, dici vuoi mettere il salvataggio, vuoi fare questo? Per loro siamo una cosa negativa, non si sa perché. Se poi tanta gente viene qui a prendersi il suo, il sorrente, non capiamo perché noi dobbiamo essere... Hai dato un servizio. E gli altri... Hai dato un servizio e è stato presente. Ho capito.